Il Vento Freddo Yoriko, non stai bene? Non è vero Ti porto ad Akashima, ti cureranno Prima dobbiamo andare in un posto speciale Dove? Non molto lontano E dopo, vi prometto, verrò con voi per curarmi Bene Ma se cominci a peggiorare, andiamo ad Akashima? Certo, signore Sempre così risoluto Dove si trova questo posto speciale? Vedrete Non puoi dirmelo? È un segreto Fai strada Vediamo se state al passo Attenta, Yoriko Direi Direi no no sapete di questi c'è un onsen 15 giusto eccolo vogliamo dare un'occhiata da vicino non è bellissimo sì perché siamo qui siete turbato spero non sia perché siamo venuti qui non capisco è così penoso vedervi oppresso dalla tristezza con Lady Sakai e il piccolino Yuriko stai bene? non è nulla solo un mancamento da quanto non mangi? da ieri mi sembra aspetta qui cerco qualcosa non sono una bambina ti prego Yuriko riposa un attimo qui come volete siete davvero gentile torno subito forse posso cacciare Nobu vieni un cinghiele forza Nobu 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 Lo porterò a Yuriko Per farla mangiare Yuriko, Yuriko! Il cavallo è sparito Si è allontanata Polveri ed erbe È passata di qui Il cavallo di Yuriko È qui vicino Euriko! Mio signore Yuriko, sei ferita? No Mi sono solo... Io mi sono persa Dove stavi andando? Ho visto mia madre Mi salutava, ma si allontanava Dovevo raggiungerla Ti porto a casa No Mia madre Devo fare un'offerta per lei No, non devi Vi prego Per tutte le volte che ho fatto come avete chiesto Venite con me Lasciatemi onorare la memoria di mia madre Va bene Ma non fare sforzi Grazie Come non farò? No Passaggiavo a lungo Con mia madre su queste colline Imparando i segreti delle piante Forse l'hai vista per questo. Ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Un cimitero. La mia famiglia è qui. Oh. Kazumasa. 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 Mi ascoltate? Ti ascolto. 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 Per questo anno. Pregavo sempre lì per voi. Per Jin. E per la mia famiglia. Jin è fortunato ad avere la tua dolce premura. Ora dimmi cosa vedi. Yuriko. La forza che ci occorre è già con noi. I potenti infine cadranno. E diverranno polvere nel vento. Vedo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.